In questa prima puntata di iCuber News, un'intervista su passato, presente e futuro dell'agenda digitale Emilia-Romagna, un servizio sulla nuova agricoltura digitale in collaborazione con T-Working Capital e Olivetti e in chiusura un'anteprima degli eventi e appuntamenti sull'innovazione in Emilia-Romagna. Buona visione! Per questa prima puntata del nuovo format non potevamo avere ospite più significativo di Dimitri Tartari, coordinatore dell'agenda digitale Emilia-Romagna. Buongiorno Dimitri, benvenuto daiCuber News, agenda digitale Emilia-Romagna, partiamo dal passato e dal presente, cosa è successo negli ultimi mesi? Allora, intanto grazie mille Saverio, grazie anche per questo invito che ci fa molto piacere e crediamo molto anche nel tuo progetto in questa iniziativa. L'agenda digitale dell'Emilia-Romagna, negli ultimi anni abbiamo fortemente lavorato, abbiamo investito nelle infrastrutture, in particolar modo possiamo dire che il progetto per portare la banda ultralarga in tutti i comuni che sono a fallimento di mercato è avviato, oggi sono aperti e attivi 71 cantieri che si chiuderanno entro la fine dell'anno e che riguardano 71 comuni, nel 2019 ci saranno ulteriori interventi che poi si completeranno con quelli del 2020 che troveranno una loro conclusione nel 2021. Questo vuol dire oltre 255 milioni di euro investiti in banda ultralarga, è prossimo un intervento anche su quelle che sono definite aere grigie, quindi quelle non a fallimento di mercato, ma dove la velocità della banda non è ancora sufficiente per le imprese, per i cittadini, per le associazioni, e dall'altra parte chiaramente continua, e ad oggi siamo a oltre mille, scuole connesse in fibra ottica. Cosa vuol dire connettere le scuole in fibra ottica? Non vuol dire soltanto fare un'infrastruttura, ma vuol dire abilitare un istituto scolastico a fare una nuova didattica, quella che sappiamo bene essere mediata dalle lavagne multimediali, ma anche da nuove forme di collaborazione tra i ragazzi e di costruzione di progetti e risoluzione di problemi. Contemporaneamente in questi mesi abbiamo lavorato a un importante progetto che si chiama Emilia Romagna Wi-Fi, quindi di diffusione del Wi-Fi sul territorio emiliano-romagnolo, siamo a oltre 4.000 punti, 5.000 punti, siamo un po' così al guado, e abbiamo avuto anche un riconoscimento importante da parte della Commissione Europea attraverso la selezione tra gli ultimi tre finalisti dell'European Broadband Award, questo perché oggettivamente il nostro progetto porta sul territorio dei punti di accesso alla rete in banda oltre all'arca, liberi, che vuol dire che non è necessaria autenticazione, e con un'esperienza utente, potremmo dire così, che è di alto livello. Cosa vuol dire? Facciamola più semplice, vuol dire che se io sono in una piazza, in una biblioteca, oppure anche in un ospedale o in un presidio sanitario, trovo sul mio cellulare o sul mio device una rete che si chiama Emilia Romagna Wi-Fi, clicco su quella rete e automaticamente l'oggetto si collega a internet a velocità elevata, sia in upload che in download, senza chiedermi altro. Quindi quello che noi abbiamo voluto risolvere è il problema della complessità di accesso alle reti Wi-Fi, perché per noi accedere a internet è un diritto, e dall'altra parte è anche superare il problema oggettivo che le reti Wi-Fi molto spesso non funzionano. Quindi una rete diffusa sul territorio che funziona e che oggi, per esempio, è anche disponibile allo Stadio Dall'Ara di Bologna, per intenderci, ma che si diffonderà ulteriormente e stiamo lavorando anche per portarla sulla costa Emiliano Romagnola, negli spazi di attività fisica e quindi nei centri sportivi, nei palazzetti dello sport che ci sono su tutto il territorio. Contemporaneamente abbiamo lavorato su tutto quello che sono i servizi della pubblica amministrazione, e quindi stiamo completando l'intervento sui servizi e l'accesso unitario ai servizi per le imprese, che metterà insieme lo sportello unico attività produttiva, lo sportello edilizia, e tutto quello che riguarda le pratiche per il terremoto, sostanzialmente quelle legate al tema della sismica. E dall'altra parte stiamo lavorando col Comune di Bologna, con la città metropolitana di Bologna, sul tema dello sportello al cittadino, inteso come i servizi pubblici che sono rivolti al cittadino. Non va dimenticato il grandissimo investimento che Regione ha fatto sullo sportello e sul fascicolo sanitario per i cittadini, che oggi vede oltre 500.000 utenti registrati che usano un fascicolo e che mediano praticamente la loro relazione col sistema sanitario regionale attraverso il digitale. Questo crediamo che sia molto importante. Parallelamente continuano gli investimenti sulla alfabetizzazione, le competenze per gli adulti, in particolar modo il progetto Pane Internet, che molti avranno visto nelle varie città, crea dei momenti di incontro tra gli anziani, ma anche tra gli adulti non ancora in un'età avanzata, per capire come utilizzare la tecnologia e come farlo in modo sicuro, senza rischi. Dall'altra parte continua e prosegue l'investimento sugli interventi nelle scuole e quindi lavorare anche per le competenze dei ragazzi. Quindi infrastrutture, ma infrastrutture fatte per rendere la vita sempre più semplice ai cittadini tramite il digitale. Siamo ancora nel 2018, però il 2019 sta arrivando velocemente, sarà un anno denso anche per la agenda digitale. Ci dici tre cose che succederanno? Allora nel 2019 chiaramente arrivano a maturazioni molti progetti, molte iniziative. Una delle più importanti, io credo, perché ci abbiamo messo un po' di tempo a costruire le condizioni per realizzarla, è un forte intervento che farà la Regione attraverso fonti FSE, dedicato alle ragazze, alle giovani ragazze, per dare degli elementi di competenza su quello che si chiama STEM, cioè le materie tecniche e tecnologiche, per farla semplice, ma anche matematica e comunque materie scientifiche. Perché sappiamo bene che nonostante la nostra Regione sia una Regione in cui effettivamente il tasso di occupazione femminile è molto alto rispetto alla media nazionale, continuiamo ad avere dei gap significativi rispetto all'accesso a percorsi formativi, come universitario e anche scuole superiori e diploma, tecnici o tecnologici da parte delle donne, delle ragazze. Questo è un fattore principalmente culturale che crediamo che vada superato, anche perché vuol dire rinunciare a delle risorse di alta qualità e che permetta poi di fare competitività del nostro territorio. Quindi si sta chiudendo un bando e ci saranno attivi sul territorio corsi dedicate proprio alle ragazze, delle scuole medie e stiamo parlando di oltre un milione di euro, quindi un intervento significativo. Dall'altra parte continuiamo la diffusione degli hotspot wifi, vogliamo seriamente completare questo intervento arrivando chiaramente in tutti i comuni, ma anche stiamo dialogando con il governo per avere dei fondi per andare a fare degli interventi specifici, come dicevo prima, o sulla costa romagnola o magari nei palazzetti dello sport, o comunque fare in modo che il nostro territorio sia un territorio in cui il diritto di accesso alla rete sia garantito. Da ultimo, ma non ultimo, prosegue, e anche nel 2019 organizzeremo, un festival, un festival del digitale. Qualcuno potrebbe dire, ma cosa serve fare un evento come pubblica amministrazione? Serve perché oggettivamente, ancora oggi, nonostante tutto potremmo dire, il digitale, la tecnologia è qualcosa che è molto distante dai nostri cittadini. Un po' probabilmente è un fattore legato alla demografia, la nostra è una regione che sappiamo, rinomatamente ha un tasso di vecchiaia abbastanza elevato, ma soprattutto continua a esserci un problema legato alla poca conoscenza e al poco utilizzo per attività che possono essere ludiche, sociali e ricreative, ma che devono essere e possono essere anche professionali e imprenditoriali. Il festival si chiama After Festival, la terza edizione nel 2019 sarà intorno a settembre, sarà a Bologna, le precedenti sono state a Modena e l'anno scorso a Reggio Emilia, e abbiamo avuto un ottimo riscontro sia di pubblico che di partecipazione di esperti. Ci crediamo molto, pensiamo che sia un modo per tradurre concetti complessi e opportunità complesse ai cittadini. Aggiungo solo una cosa, se posso. Un percorso che si conclude adesso e si è concluso in queste settimane e che nel 2019 vedrà un forte sviluppo è quello legato all'identità digitale. Anche qui qualcosa che detta così può interessare poco, può essere anche difficile da capire, però sostanzialmente in questi anni con il livello nazionale abbiamo costruito una cosa che si chiama Speed, qualcuno l'ha sentito nominare, che è un sistema per avere una username e una password che è sempre quella per accedere a tutti i siti della pubblica amministrazione, che sia l'Inps, che sia l'Agenzia delle Entrate, ma che sia la Regione o un Comune. Abbiamo fatto un percorso lungo con l'Agenzia per l'Italia Digitale e in queste settimane abbiamo avuto il riconoscimento del fatto che il nostro sistema di autenticazione, che si chiama la Federa, diventa un sistema che è all'interno del sistema Speed. Vuol dire che tutti coloro che hanno già l'identità potranno aumentare la gamma di servizi e soprattutto vuol dire che noi nel 2019 vogliamo e dobbiamo fare una campagna di diffusione di queste identità, perché vuol dire semplificare davvero la vita delle persone, vuol dire che non ci si dimenticherà più lo username e la password, non ci sarà bisogno di chiamare un numero verde a livello nazionale o farsi mandare una lettera imposta che deve essere recuperata, vorrà dire poter fare riferimento al proprio Comune, al proprio sportello dell'URP del Comune, vorrà dire che con la stessa autenticazione si potrà usare da un lato il fascicolo sanitario elettronico, ma anche tutti gli altri servizi. Questo io credo che, nonostante sarà importante e anche complesso raccontarlo, su questo chiederemo un'aiuto a voi, dall'altra parte sarà qualcosa anche un po' di rivoluzionario. Quindi un bel programma denso, sicuramente con iCuber, Doc e News, quest'anno vi seguiremo, in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille. Grazie, ciao Dimitri. Negli scorsi giorni si è tenuto presso la sede bolognese Team Working Capital Digital Field Hack, una due giorni di hackathon promossa da Olivetti, da Team, da Crea e da Future Food Institute sul tema dell'innovazione digitale nell'agricoltura e nell'agri-food. Marco Lotito, Team Book Up a Bologna, oggi Digital Field Hack. Che cos'è Digital Field Hack e che senso ha nella strategia complessiva di Team Book Up? Sì, allora questo è il lancio in grande stile di un'iniziativa che abbiamo cominciato a costruire parecchi mesi fa, un'iniziativa di open collaboration, quindi la trasformazione del nostro spazio in un hub che sperimenta l'approccio dell'open innovation verso la smart agriculture e l'agri-food. Per avviare questa iniziativa abbiamo attivato delle collaborazioni, quindi qui siamo presenti non soltanto come Team Book Up ma come Olivetti che propone una soluzione di smart farm aperta alla sperimentazione e all'evoluzione delle start-up. Insieme a loro gli amici di Future Food Institute che hanno una presenza stabile qui all'interno di questi spazi e che ci aiutano a raggiungere la community di agricoltori digitali. Partiamo, oggi il progetto si in qualche modo si apre partendo dai ragazzi. Sì, ci sono circa 60 partecipanti, tra l'altro all'interno di questi partecipanti ci sono anche dei colleghi di Team che hanno voluto partecipare all'agathon che per noi è una piacevole novità. Loro hanno a disposizione delle API messe a disposizione da Olivetti e dai nostri partner per sviluppare dei proof of concept, delle idee teoricamente realizzabili per fare evolvere la nostra piattaforma di smart farming. Cosa succederà nei prossimi mesi? Allora, nei prossimi mesi a partire da questa settimana intanto introdurremo le prime start-up di smart agriculture selezionate nella storia da Team quindi un momento storico per avviare questo percorso insieme a loro e alle persone che coinvolgeremo cercheremo di indagare su come le soluzioni digitale e la tecnologia in senso positivo, quindi un approccio molto costruttivo possano risolvere dei problemi che cominciano a manifestarsi in modo drammatico dalla fama nel mondo all'impatto ambientale delle nostre scelte. Open data e didattica costruttivista, fake news e fact checking dati territoriali ed ambientali La proposta formativa nasce da un'idea condivisa tra Servizio Marconi TSI ed Erwet nel quadro delle azioni congiunte del Piano Nazionale Scuola Digitale Priorità per l'iscrizione degli animatori digitali dell'Emilia Romagna massimo 30 posti, partenza da inizio dicembre A Faenza, lunedì 10 dicembre, patrimonio culturale Ideen Digitale Nell'anno europeo del patrimonio culturale, Romagna Tech e il Contamination Lab della Fondazione Banca del Monte e Cassa di Risparmio Faenza organizzano una giornata di riflessione e coprogettazione sul tema dell'innovazione digitale per valorizzare il patrimonio culturale territoriale Programma sul sito Romagna Tech Cerimonia di premiazione del premio Copin venerdì 14 dicembre alle ore 10 presso la sede bolognese di Conf Cooperative Emilia Romagna Nell'anno del proprio cinquantenario, Conf Cooperative Emilia Romagna desidera far emergere, valorizzare e diffondere iniziative di open innovation facendo leva su una rivisitazione dei principi e valori cooperativi modulistici per metterli a servizio di sfide contemporanee Corso in aula di Work as Women il 19 dicembre Come costruire una strategia digitale efficace presso Team WCAP Bologna Trainer Cecilia Pedroni